No! No, no, no! Abbiamo scoperto i segreti dei Bakers e purtroppo mi è stata infettata definitivamente con il virus di Evelyn e l'abbiamo dovuta far fuori. Qui c'è un po' di gente, ma io non sono preparato, non c'ho oggetti, porco due, veramente, non c'ho niente a portata di mano, aspetta che vado a pigliare la cassa... Ok, sono tornato, forte come non mai... Che due coglioni, guarda, io... io riavvierei. Mi lo vaffanculo. Dio! Seva quando mai, abbiamo capito. Ehi, vi vai di ridere? Sono dieci minuti di registrazione. Che cosa ho fatto a parte morire quattro volte a dei nemici base? Abbiamo cominciato malissimo. Veramente male abbiamo cominciato qua. Me do il combatto? Me sa, me do. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ok, non passi? Vieni qui. Ce ne sta un altro qua dietro. Ne ho le palle piene. Sento rumori. Già, devo spingerlo, vero? Ma che cazzo! Ah! 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 Lo vedo! Lo vedo! Lo... Vedo! Non sei mai andato a fanculo, Lucas. Ancora con questi scherzetti su. Ah, che palle. Oh wow, questo è già morto di nuovo. Ah! Questa ragetta qua è arrivata di nuovo. Ah, il coso, questo qui ci devo mettere. Il vaccino. Mmm. Dio mio, che paura, figlia di strettepiglio, ti ammazzo così fu... Muori? Io... Me ne andrei, ecco. Scusami, permesso? Grazie, vaffanculo. Oh no, piccolo cieco. Via! Minchia, non so troppi. Cioè, devo per forza scappare qui. Ok. Eh, via! Veloce! No, che due coglioni, no dai! No, 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 no. Allora. Oddio, grazie! Via! Vattene! Vattene! Oh, salvataggio, più avanti! E dove manca ancora? Ma sono nella casa adesso. Oh, ciao! Bastardo. Minchia, ce ne sono 20 di quelle merdine. Questo è l'inizio del gioco. Un po'. E zero, zero ancora. La nonna? Sarà infettata pure lei? Chiudi sta porta, ho brutti ricordi. Sì. Ma sono io! Ma sono io! È solamente colpa tua! Perché la vita? Oh! So che non volevi farmi alcun male. Uccidilo, mammina! Ma questa volta, hai esagerato! Fa un cazzo di male! Non vuole essere il mio paparino? Allora, può morire. Brutta bastarda! Brutta bastarda! Questa volta è il turno della mamma di ucciderti! Dov'è? 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 Oh! Ma che è sta storia? No, 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 allora. Eccoti! Dov'è? Dov'è cazzo sei? Eccoti! Dove sei andata, però? Presto diventerai uno di noi. E forse comincerai a comportarti bene. Ma Mario! È un'allucinazione, è un'allucinazione Non può farmi Non può farmi niente comunque È un'allucinazione E' un'allucinazione E' questa? Io me do? Ciao Eccoti maledetta Ma che? Vengo dall'altro lato? No Via Ti prendo Ti prendo E ti ammazzo Muori Madonna che cosa terrificante La nonna Perché tutti quanti Era lei? Era lei? Attiva Stavrà arrivare la merda pesante Madonna mia Madonna mia Stai lontano Non ce la faccio Ok 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 Il momento è la quick kill Allora È stato rapido Adesso No? No Ma la mia mamma ha lanciato te fuori Minchia Ho i rinforzi Belli rinforzi Belli rinforzi Non sarò più una bambina Ma che è sta storia? Aspetta Ho bisogno di colpi rapidi La pistola Oh wow Oh wow Oddio Sono ancora vivo Non è la stessa che ha luo già Muori Muori È morta Oddio mio Finalmente Oddio E i rinforzi Sono Redfield Chris Alleluia Perché ci avete messo così tanto Veramente No Il video iniziale Di mia No Non lo fare Ma è un iphone cinese Non è un iphone Ma non è un iphone Addio No Non lo fare No Dicono che chiusa una porta Se ne aprà un'altra Beh Stanotte se ne è chiusa una È stata una lunga notte E non solo per me Io e Mia Non siamo le sole vittime Ma anche i Baker È colpa di quella cosa Evelyn Che li ha resi così Un bravo Non era una malvagia La cavalleria è venuta a ripulire il tutto Avevo accettato la scomparsa di Mia La prima volta Ma ora l'ho persa di nuovo E l'unica dannata porta che vedo Rimane chiusa Bad ending Resident Evil 7 Finito Ragazzi Questa è la serie di Resident Evil 7 Se vi è piaciuta Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Vi lascio in descrizione O nelle schede La playlist di tutta la serie Con tutti i dieci episodi E noi Ci rivediamo al prossimo video Con l'inizio di Resident Evil 2 Bella They locked me up And took my soul Shade of what they made Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey I'll call to him And he will come She'll run to him Like he's the one His arms are stretching But when she's done He'll be torn apart He'll be torn apart Go tell Aunt Rhodey 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 Everybody's 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 Done ...dannnnnnnnn